Buongiorno, mi poco tanta presentazione, ovviamente parto con una sorta di ambascio emozionale. Allora, a me l'onere, non l'onore, di iniziare un convegno su una patologia che negli anni, anche per l'osteopata, si è presentata al proscenio. Forse anche perché le capacità terapeutiche in generale non sono molto elevate, per cui quasi per disperazione negli anni passati sono trovato a confrontarmi con delle situazioni, famiglie e bambini, e all'inizio, anche spinto da esperienze che venivano da nostri insegnanti, per esempio la Freiman, abbiamo cominciato in qualche maniera a provare a trattare i bambini, anche perché poi, alla fine, il trattamento osteopatico, se fatto in una certa maniera, risponde in maniera adeguata al principio ippocratico del primo nonnocere, quindi alla fine possiamo anche scommettere di trattare questi bambini, sapendo di non avere effetti collaterali. Al massimo rimane tale e quale la situazione. Poi, soprattutto, quello che è successo è che da questa definizione dell'American Psychiatric Association del 2000, in cui fondamentalmente c'è una descrizione della situazione, non c'è un grosso approfondimento, si passa a quest'altra definizione del 2013, che invece apre una serie di possibilità. Il fatto che compaia nella definizione dell'American Psychiatric Association il concetto di sensorialità, determina praticamente una svolta nell'approccio, o nelle possibilità di approccio, o almeno pone le basi per una sorta di razionale di trattamento, che poi vedremo eventualmente cosa che può più interessare l'ambito più prettamente osteopatico, che però, ovviamente, deve in qualche maniera essere associato ad altre figure professionali che svolgono i cosiddetti, quelli che si prendono cura di queste persone. Però nel momento in cui c'è uno scambio, o comunque una sorta di relazione terapeutica, bisogna che sia necessario che tutti siano d'accordo sul concetto patogenetico che c'è di fondo. E voi sapete che nell'autismo c'è tutta una serie di aspetti, non so se se ne parlerà, ma legati anche all'attività del sistema digerente, quant'altro, oppure alle condizioni di tossicità, dei metalli, c'è chi fa che... Poi la base scientifica di tutto questo non so quanto sia forte, però sta di fatto che, a mio parere, il primo umovens su cui ci dobbiamo in qualche maniera confrontare è qual è la realtà di questi bambini, o di questi soggetti, che poi non sono anche più bambini. Cioè, come vedono il mondo. E questo ci riporta un po' alle famose leggi delle energie specifiche. Noi, se vediamo è perché abbiamo dei recettori che riescono a trasdurre una forza fisica, ad esempio il fotone e quant'altro. Quindi, probabilmente, anzi, diciamo, il fatto che si parli di sensorialità determina che possiamo cominciare a capire qual è la modalità con cui il mondo viene percepito. E anche certi tipi di atteggiamento classici del soggetto autistico possono essere in qualche maniera interpretati attraverso una modulazione diversificata della funzione sensoriale. Quindi, i concetti importanti che emergono sono quelli della cosiddetta iper-sensorialità o della ipo-reattività. Cioè, vuol dire che, praticamente, c'è la possibilità di avere modificazioni della funzione sensoriale rispetto allo stimolo. Spieghiamoci un po' meglio. Per esempio, si può avere una sorta di iper-responsività, oppure una over-sensitivity, come direbbero gli anglosassini, a dei fattori, praticamente, che noi rigeniamo normali, per esempio, il rumore. E quindi, questo ci può spiegare come mai il bambino tende a chiudersi le orecchie, oppure a spaventarsi. Oppure, forme di ipo-responsività, che sono soprattutto inerenti all'ambito... Allora, quelli che qualcuno chiama il tatto profondo, poi qua il dottor Parisi sa che io ho qualche idea un po' diversa rispetto al concetto di tatto, io parlerei più di concetto di interocezione, cioè vuol dire di percezione del corpo, di cui fa parte l'espressività nocicettiva e quindi l'emozione dolore. Quindi, se un soggetto, che tra l'altro, vedremo, è alla base, secondo Craig, dello sviluppo, la base anatomica, non è la coscienza, ma è alla base, è la struttura anatomica da cui parte la formazione, la possibilità di costruire uno stato di coscienza. Quindi, che ne so, soggetti che hanno poca percezione del proprio corpo, non sentono il dolore, e quindi a quel punto possiamo anche pensare a uno stato di coscienza completamente modificato rispetto a quello che è il comune sentire. Quindi, partendo da questi concetti, l'idea è, ma allora come vede il mondo questo soggetto? Perché? Perché questa possibilità ci dà, in pratica, apre la via alla capacità di sapere, di capire un certo tipo di comportamento che sennò, ovviamente, per noi sarebbero completamente illogici. E la modulazione sensoriale viene definita in tre categorie. La prima è la iperresponsività, quindi, se c'è, che ne so, un suono, reagisco in maniera eccessiva. Questo suono è come se lo sentissi amplificato. Poi andremo un po' più nel dettaglio su certi aspetti. La seconda è quella, appunto, dell'underresponsivity, cioè della sottoresponsività. Per esempio, in molti soggetti in questo ambito, è facile dare un pizzicotto e sapere vedere che il soggetto non reagisce. Quindi non ha nessun tipo di percezione, non si crea, in pratica, una sorta di fenomeno dolorifico che dovrebbe essere susseguente lo stimolo non cicettivo. E poi, la terza categoria, in questo ambito viene detta, cioè il cosiddetto comportamento sensory seeking, cioè vuol dire vado cercando una stimolazione. Ma anche qui, probabilmente, a mio parere, siamo nell'ambito della under-responsivity, perché fondamentalmente, se io vado cercando di odorare o mi metto qualcosa in bocca, è perché fondamentalmente non sento, quindi non percepisco, per esempio, bene gli odori o il sapore, e quindi automaticamente incremento, quindi vado cercando questi stimoli. Una delle poche meta-analisi che ho trovato io, che nel tempo sono state fatte, mette in evidenza il fatto che probabilmente il più comune sintomo di rapporto alla sensualità è la cosiddetta under-responsivity, cioè la sotto-responsività. Quindi è più il fatto di non sentire, di non percepire, è più comune questo che non quello del sentire troppo. Anche se, in realtà, c'è in genere una commistione, cioè è difficile trovare un caso puro, ma c'è sempre, almeno clinicamente, una sorta di commistione tra responsività, tra sovra-responsività e sotto-responsività. Va detto che la over-responsivity, cioè la sovra-responsività, la forte responsività, è quella che colpisce di più, perché tende praticamente a creare delle condizioni macroscopiche, il bambino che in un ambito di rumore si attappa le orecchie e compagnia bella. Comportamenti molto elevati legati all'under-responsivity sono soggetti che, per esempio, hanno delle forme di autolesionismo, quindi quelle che si colpiscono. Tra l'altro, questo fatto tende anche a avere l'incapacità di percepire la possibilità di generare dolore, per cui automaticamente sono anche quelli che menano, cioè quelli che colpiscono. Quindi, in realtà, nel momento in cui c'è una sorta di aggressività, quello è il segnale, praticamente, che non ho la capacità di percepire, praticamente, il fatto che la nocicezione si esprima poi sotto forma di emozione, dolore. E la domanda, appunto, che ci siamo posti negli anni è c'è un razionale? Perché poi le esperienze che venivano, soprattutto negli Stati Uniti, erano, sì, li trattiamo. Sì, va bene. Anche voi provate. Sì, va bene. Ma qual è il... C'è un razionale, o almeno un'ipotesi, che ci dia la possibilità di lavorarci sopra, ma anche magari di fare della ricerca, perché poi abbiamo comunque necessità. Ogni volta che ci troviamo di fronte a una problematica clinica, la ricerca nasce dal fatto che il clinico si trova di fronte a una condizione che non sa come affrontare, oppure che dipone degli interrogativi. È là che è nascita la ricerca. Poi dopo che ci siamo diventati, ci siano i professionisti della ricerca to cure, questo è una deviazione non particolarmente edificante, però voglio dire, soprattutto in medicina, la ricerca deve essere legata a una forte necessità del clinico che affronta praticamente il soggetto. Non dimentichiamoci che qualsiasi azione di un medico ha come oggetto un soggetto. Questo lo dice Giorgio Cosmacini e non lo dico io. Ora, c'è un razionale. Allora, negli anni, questa è la nostra cara vecchia dottoressa Freiman, la più famosa, diciamo, che non è l'unica personalità in questo anno, però sicuramente ha quella che si è spesa di più, che ha viaggiato per il mondo, tutti quanti la conoscono, e nel suo articolo nel 1992 scrive che il corpo, classico concetto osteopatico, ha le sue capacità inerenti di stimolare lo sviluppo neurologico e la funzione di integrazione e di sviluppo la capacità è, secondo lei, seguita, praticamente, si è innalzata se c'è un trattamento osteopatico in corso, cioè se i soggetti sono sottoposti al trattamento osteopatico, la capacità neurologica e l'incremento della cosetta competenza o il repertorio neurologico si incrementa. Questo è nel suo lavoro che è stato svolto nel 1992. Questo è stato un articolo, poi si può criticare perché ovviamente poi siamo nel 1992, le modalità con cui sono state effettuate queste ricerche probabilmente sono criticabili, tutto è criticabile, però per un clinico come me quello fu in pratica un momento molto importante perché come si ci ha in qualche maniera donato la possibilità di o ci ha detto come dicono gli inglesi pave the way, cioè ha fatto un po' strada e quindi allora ok, possiamo fare qualcosa per questi bambini, proviamo a fare qualcosa perché nella sua esperienza questi bambini trattati osteopaticamente incrementavano le loro competenze neurologiche. Ora, il nostro lavoro fondamentalmente si basa ancora sulle ricerche che in qualche maniera sono state confermate del fisiologo Irving Kaur che fondamentalmente è il secondo filosofo dell'osteopatia essendo il primo il fondatore Steele e il fisiologo Irving Kaur che non era osteopata ma forse ha capito molto più di molti osteopati cosa fa osteopatia ha sapete molti di voi lo sanno ha in qualche maniera messo le basi del trattamento osteopatico in realtà analizzando il concetto della disfunzione somatica e facendo emergere un forte coinvolgimento dell'attività autonoma nel momento in cui si generano le disfunzioni per cui alla base del trattamento osteopatico probabilmente probabilmente c'è una sorta di riequilibrio di funzione del sistema autonomo l'equilibrio vuol dire che se c'è anche segmentalmente un'iperattività del sistema simpatico vuol dire che quella si viene mantiene nel tempo non segue dei ritmi oscillanti per cui si manifesta in modo per esempio pro-infiammatorio come qualsiasi attività orto-simpatico-autonica praticamente determina e allora qui ci sono stati altri studi un po' più recenti che sono stati fatti con ad esempio utilizzando l'art di variabilità la variabilità della frequenza cardiaca che appunto studia è un sistema validato per studiare la funzionalità orto-parasimpatica e in effetti da questi dati esce fuori che probabilmente la nostra attività è proprio si basa proprio sulla capacità di riequilibrare l'attività autonoma quindi una sorta di riequilibrio tra la funzione orto-simpatica e parasimpatica un riequilibrio tra le due funzioni sapete che tutti i concetti di salute fondamentalmente si basano su delle funzioni oscillanti cioè una condizione oscillante vuol dire che se ad esempio banalmente facendo riferimento ad esempio alla cronobiologia se durante il giorno abbiamo un incremento di attività orto-simpatica la notte ci deve stare un aumento di attività parasimpatica se rimane alta l'attività orto-simpatica perdiamo la condizione di salute perché perdiamo la capacità di adattamento la capacità adattativa per cui poi ci esponiamo alla possibilità di fenomeni patologici e quindi la malattia come in effetti perdita di ciclicità negli anni all'inizio degli anni 2000 è stato pubblicato questo articolo che secondo me è fondamentale che si chiama il sistema del come ti senti il senso fisiologico delle condizioni corporee ed è stato pubblicato da Bud Craig che dopo una lunga ricerca e che poi è continuata nel tempo ha messo le basi per la individuazione del concetto di interocezione interocezione che corrisponde fondamentalmente a tutto quel sistema di informazione che arriva dalla periferia del corpo che ci fa capire come stiamo ma è andato oltre cioè intanto ha creato una sorta di interessantissima separazione tra i concetti di tatto e di dolore che sono sempre stati nel tempo messi in correlazione e perché questo perché in realtà alla base dei fenomeni tattili o cosiddetti epicritici discriminativi ci sono dei sistemi neuronali che sono completamente differenti rispetto a quelli che invece generano l'informazione sullo stato corporeo cioè del come mi sento ma non solo questa informazione quindi che passa attraverso fibre completamente differenti poi praticamente intanto determina già degli archi autonomi cioè vuol dire che se c'è un'informazione ci sarà un tipo di risposta autonoma adattativa quindi vuol dire come sto si che ne so fa caldo allora vuol dire che ci saranno delle informazioni per esempio termiche che fanno sì che io avrò una risposta per esempio sudo oppure fa freddo e avrò un altro tipo di risposta per esempio produco calore ad esempio arriva il brivido il brivido è nient'altro che la produzione di calore a partire dalle pompe sodio potasso dei muscoli quindi tutti questi elementi qui sono stati messi in una sorta di inquadramento generale che è stato secondo me fondamentale che non è stato secondo me completamente compreso fino ad adesso considerando tra l'altro che le pubblicazioni sono avvenute anche in ambiti cioè su riviste diciamo rilevanti questa è pubblicata su Nature quindi non è proprio l'ultimo giorno lui va oltre perché intanto che cosa scopre scopre che questo tipo di informazione arriva non in certe zone della corteccia tipo ad esempio quelle che danno la discriminazione tattile ma in altre zone della corteccia in quali le zone della corteccia le zone della corteccia che sono per esempio il lobo dell'insula e il giro cingolato anteriore cioè vuol dire strutture del sistema limbico vuol dire che quindi E pone le basi secondo Craig di questo tipo di informazione per generare la coscienza ripeto non è la coscienza è la base anatomica nel senso che se distruggo questo sistema praticamente non ho la possibilità di generare coscienza però attenzione a non fare l'errore di dire questa è la coscienza è tutta altra cosa però è la base anatomica quindi vuol dire che se non c'è un corpo da rappresentare il cervello non funziona quindi le famose epopee di inizio novecento sul cervello pensante a se stesso pensante la generazione di letteratura tipo Frankenstein prendo un cervello lo metto là lo sposto è assolutamente incongruo perché nel momento in cui il cervello non ha un corpo da rappresentare non esiste i danni che si possono verificare in questa zona qui questa è la zona del tronco del encefolo questa all'epoca mia quando studiavamo io Parisi poi c'era Virgilio Catullo c'era tutta questa gente qua praticamente questa qua veniva chiamata sostanza reticolare così perché non si capiva niente fondamentalmente invece questa è la parte posteriore sostanza reticolare ci sono dei nuclei ben precisi a 2 a 7 il nucleo parabraghiare il grigio per acqueduttare sono dei nuclei invece che sono stati individuati e che hanno una fortissima funzione tipo autonoma cioè quindi sono dei primi regolatori della funzione questi probabilmente sono già quei sistemi che funzionano durante la fase fetale e mi ha fatto anche ripensare a tutti i concetti delle cosiddette della mobilità spontanea per esempio quelli espressi da prectel che sono basati sui concetti di cosiddetti pacemaker o con una parola molto più pericolosa pseudo pacemaker presi in situ a livello del tronco dell'encefalo probabilmente quei movimenti che noi vediamo nei bambini piccoli sono dovuti al fatto che arrivano queste informazioni a questo livello e si generano delle attività spontanee riflesse tra l'altro questa è la zona che Damasio chiama protose quindi protose cioè la prima forma di coscienza cioè almeno di strutturarsi di una sorta di individualizzazione in ultimo da tersum molto importante è che questo tipo di informazione chiude il cerchio di un sistema afferenziale o meglio di un sistema afferenziale quindi per esempio il sistema simpatico e il sistema parasimpatico afferenziale che vuol dire che va dal centro alla periferia come se fosse un nervo che attiva un muscolo che però non aveva un'afferenza se noi muoviamo un muscolo ci deve stare per forza un sistema di sensorialità che torna dalla periferia e va al centro perché se interrompiamo quella lì quella radice quelle fibre di ritorno in realtà noi non siamo in grado di muoverci quindi se io vado su una radice posteriore sensoriale la taglio il muscolo praticamente perde la possibilità di muoversi pur avendo l'attività efferente permanendo con l'attività efferente integra per anni e tuttora lo trovate sui libri di fisiologia questo è un sistema chiamato il sistema vegetativo è chiamato motore efferente e devo dire che Langley che l'ha scoperto con molta onestà dice io ho scoperto questo sistema che è efferente ma non so da dove arriva l'afferenza non so dov'è l'afferenza bene Craig dice questa è l'afferenza praticamente del sistema autonomo quindi il nostro sistema autonomo si basa sulla possibilità di questi tipi di informazioni che arrivano dalla periferia cioè del sistema praticamente interocettivo quindi siccome ci sta il sistema interocettivo siccome abbiamo un effetto sul sistema autonomo insomma c'è possibilità forse di intervenire possiamo avere un effetto e poi perché non pensare che se io non sento il dolore mi trovo anche in condizioni probabilmente di avere un sviluppo di coscienza molto alterato inoltre faccio una piccola digressione questo concetto della sensorialità me lo trovo in clinica cioè nella mia attività in molte altre patologie cioè l'autismo rappresenta una sorta di punta dell'iceberg ma per esempio mi capita molto spesso che nelle sindrome di Down di trattare queste sindrome diciamo sviluppando dei percorsi riabilitativi che prevedono anche ad esempio degli aspetti di ipo o di ipersensualità spessissimo iposensualità e questo secondo me è stato diciamo come clinico è stato qualcosa di estremamente stimolante perché a questo punto è come se l'autismo fosse stato una sorta di piano di insegnamento cioè io ti mostro l'estrema possibilità di avere delle alterazioni sensoriali ma mi fa capire che tutti quei quadri sfumati ma mi fa capire anche addirittura i talenti cioè insomma in una scuola di osteopatia ipervisivi ce ne stanno siamo tutti un po' molto tattili mezzi maniaci sessuali insomma tutta la roba di questa gente ma se vai in una scuola di design non troverai gente che gli piace fare il massaggio anzi cioè troverai gente che vede la realtà con la vista questa è la zona posteriore del lobo dell'insula dove arrivano le gentile touch cioè il tatto sottile delle fibre eccidi quelli di cui stiamo parlando e va detto che negli anni è stata trovata anche un'organizzazione somatotopica quindi quell'homunculus che abbiamo nella zona del giro post-centrale ce l'abbiamo anche sul giro cingolato posteriore allora quindi la domanda che ci facciamo che ci dobbiamo fare quindi è allora il sistema autonomo ci sono degli studi che mettono in relazione la funzione o un'alterazione della funzione autonoma nella sindrome nel cosiddetto sindrome spettro autistico qualcosa c'è in effetti il fatto che questi autori dicono il fatto che tu hai una reazione fight or flight cioè combatti o fuggi mi dice che sicuramente c'è un'attivazione del sistema autonomo e quindi l'attivazione di questo sistema autonomo è sicuramente più elevata questo è uno studio in cui si è tentato di mettere in relazione la stimolazione per esempio la stimolazione col tatto leggero sulla cute per esempio con una piuma oppure uno stimolo vestibolare oppure uno stimolo olfattivo uditivo e visivo con praticamente il cosiddetto l'ectoderma response che sarebbe fondamentalmente lo studio della capacità di sudorazione cioè la conduttività della cute per cui arrivano a delle conclusioni io ho qualche dubbio sulle loro conclusioni perché qua concludono in maniera un po' troppo perentoria che dicono praticamente che c'è una decrescita dell'attività simpatica in risposte lì dove c'è l'under responsivity quindi se non sento per esempio dolore ho poca attività autonoma di tipo simpatico e invece c'è un accrescimento invece in quelli che hanno iper responsività non so se è proprio così comunque questo è un lavoro che è stato pubblicato altri studi hanno preso in considerazione invece il tono vagale e si è visto che in effetti in generale in questi soggetti il tono vagale tende praticamente ad abbassarsi che vuol dire che il sistema parasimpatico non funziona in maniera adeguata quindi vuol dire che nella mia curva di salute praticamente rimango in alto cioè rimango in una sorta di stato di orto simpaticotonia che poi può scendere un po' ma non diventa mai una marcata parasimpaticotonia tutto questo comporta tutta una serie di effetti sia di attivazione del sistema nervoso centrale ma anche di funzioni per esempio periferiche immaginate l'effetto di un'ipersimpaticotonia su una ad esempio su una funzione gastroenterica per esempio diminisce l'attività peristaltica quindi comincia a esserci qualche difficoltà di tipo digestivo e qui sappiamo che in letteratura c'è molto altri autori quindi dicono che il baseline della parasimpatica attività è in qualche maniera alterato è ridotto quindi ci si è spostati forse anche per una possibilità di studi migliori soprattutto con l'art rate variability verso praticamente una sorta di abbassamento possiamo dire in generale dell'attività parasimpatica e un incremento dell'attività simpatica e questo è un altro praticamente lavoro che indica che l'attività simpatica è elevata e può essere può disinibire praticamente e quindi essere disinibita pardon quindi in qualche maniera risultando anche dal fatto che il tono parasimpatico in qualche maniera è sceso insomma non c'è più l'equilibrio tra i due sistemi inoltre ci sono altri aspetti legati alla funzione autonoma per esempio e questo è un assumento molto interessante la connettività frontolimbica è in qualche maniera alterata per cui se io ho un'attività autonoma soprattutto simpatica che si manifesta poi come introcettività sul sistema limbico in particolare l'obbo dell'insula e il sistema praticamente il cosiddetto giro cingolato anteriore che è una sorta di parte del sistema limbico che ci fa muovere cioè che influenza la motricità tutto questo praticamente in qualche maniera è esaltato perché non c'è la possibilità del grande censore cioè in pratica la corteccia prefrontale il regno del GABA il regno dell'acido gamma meno buti il regno praticamente ha in qualche maniera depotenziare una risposta di tipo autonomo esagerata questo è quello che vi dicevo a proposito di Craig che in effetti ci ricorda che l'intercezione è la long missing peripheral central afferente cioè la a lungo tempo persa diciamo attività afferente sia periferica che centrale per il sistema efferente autonomo qui in pratica abbiamo di nuovo lo stesso tipo di concetto e riespesso la scarsa connettività frontolimbica e quindi non c'è inibizione prefrontale sul sistema limbico quindi vuol dire che non solo sento molto attivo una risposta limbica e quindi quelle risposte emozionali quasi fondamentalmente di paura che tanto ci colpiscono perché rimaniamo in qualche maniera stupiti da questo tipo di perché alla fine non c'è niente di particolare perché reagisci così è dovuto al fatto che oltre a sentire troppo c'è anche un eccesso di funzione c'è un eccesso di risposta emozionale anche motorie e c'è praticamente una scarsa capacità del sistema prefrontale di diminuire quel tipo di modulare quel tipo di risposta insomma gli manca il sangue freddo cioè quello che insomma viene notoriamente descritto in questa media qui noi che abbiamo fatto fondamentalmente quindi abbiamo detto beh allora forse qualcosa possiamo fare quindi noi abbiamo un effetto sul sistema autonomo c'è poco da fare quindi il fatto che noi abbiamo degli effetti su dei pazienti adulti o anche bambini che riducono lo stato infiammatorio ci indica che probabilmente riusciamo a modulare attività autonoma quindi abbiamo cominciato a ragionare e abbiamo cominciato a trattarli ci sono molti bambini che vengono trattati da osteopati ovviamente l'osteopata dovrebbe avere un certo tipo di sensibilità dovrebbe conoscere certi aspetti spesso non c'è questo purtroppo a Pescara abbiamo da poco cominciato un lavoro con l'associazione famiglie diciamo di bambini con problematiche autistiche e abbiamo proprio oggi per esempio c'è una giornata di trattamento due volte a settimana trattiamo questi bambini e è il momento in cui abbiamo la speranza di poter cominciare a raccogliere qualche dato perché ovviamente tutto quello che sto dicendo è totalmente opinabile no perché lo dico io però è opinabile d'accordo in questo studio per esempio che è molto interessante DTI si è visto in effetti che ad esempio un fascicolo questo è un fascicolo vuol dire una struttura bianca che da una parte della corteccia va fine a un'altra quindi per esempio strutture che vanno dal sistema limbico dovrebbero arrivare praticamente nel sistema corticale per esempio prefrontale e questa è la testimonianza attestata quindi anatomica che hanno scarsa connettività cioè viene a mancare la connettività per cui se un sistema tende a funzionare troppo in un certo tipo di ambito e poi c'è scarsa connettività all'interno praticamente del sistema corticale ovviamente si liberano risposte assolutamente incongrue e ci piacerebbe quando avremo i soldi di fare un trattamento o di trattare molti bambini e vedere eventualmente se questo sistema perché qua siamo di fronte a dei sistemi plastici quindi vuol dire che se io stimolo un cervello Candel ha preso il premio Nobel per questo dimostrando che l'informazione modifica l'anatomia che era quello che aveva già con il capito Ramonica Hall quando parlava di sinaptogenesi quindi la sinaptogenesi è la base della plasticità quindi vuol dire che probabilmente se noi stimoliamo questi bambini in una certa maniera li trattiamo e facciamo a oltre io parlo di osteopatia ma c'è anche oltre praticamente potrebbe esserci una sorta di modificazione a mio parere cioè ci sono le basi per poter modificare questo tipo di connettività e il fatto che molti dei nostri bambini sempre su base clinica migliori nel senso che abbiano molta più relazione hanno meno problematiche comportamentali secondo me dietro c'è tutto questo la capacità di modulare il sistema autonomo e anche la capacità di riconnessione tra le varie strutture ovviamente per il momento nella famosa piramide delle non evidenze delle prove stiamo qua quindi siamo proprio la base d'accordo quindi per il momento stiamo ancora pagando molti operai egizi con molta birra e stiamo facendo il basamento della piramide di Cheope quindi perché prima di arrivare a questo insomma ce ne vorrà però voglio dire tempo al tempo probabilmente io per problemi di età non lo vedo però insomma andiamo avanti qua le esperienze personali sono interessanti vi posso assicurare da clinico vi dico che è estremamente entusiasmante trattare questi bambini cioè proprio è uno dei diciamo dei trattamenti che più prediligo la buon uomo direbbe perché sto su quel versante quindi una sorta di similarità però non so se è questo però devo dire che in effetti sono estremamente appassionato è appassionante trattare questi soggetti e io basta finito grazie grazie